E' ufficiale il ritorno di Giovanni Zichella sulla panchina del Teramo, stavolta però non da secondo come era stato nella prima parte dell'anno, vice di Asta e adesso responsabile unico della prima squadra dopo l'esonero di Ottavio Palladini del suo secondo volta a torni. Resta invece al suo posto il direttore sportivo Sandro Federico che a differenza di Palladini ha un anno in più di contratto, il suo infatti scade nel 2020, una decisione quella di virare su Zichella scaturita per il Teramo dall'impossibilità di arrivare a Cifaldi e dal no fragoroso di Asta che ha preferito declinare l'offerta del diavolo di tornare a sedere sulla panchina che era stata sua da giugno fino a gennaio. Contratto per Zichella che sarà quello previsto, ovvero con scadenza naturale a fine giugno. Il neotecnico, in precedenza sulle panchine di Valle d'Aosta e Chieri in C2 Serie D, ha anche una lunga esperienza alle spalle del settore giovanile del Torino e sarà presentato domani pomeriggio e potrebbe avere il rinnovo garantito per la prossima stagione. Nelle prossime ore invece verrà nominato il suo secondo e alla prima, che poi è anche l'ultima di campionato, sarà già durissima. Al Bonolis la tende la reggiana, poi con ogni probabilità il play-out con il Vicenza, il terzo allenatore della stagione, per provare a salvarla la stagione. Il Teramo tenta l'ultima disperata mossa per non arrendersi al dilettantismo.